non garantisco sulla stabilità del video vabbè se vanno così formazione del gruppo Fusetto che si porta Carraro poi Bissuola poi Mortolato poi ancora Carraro e Leonora Campana ora vediamo chi è che lancia lo sprint per i primi punti con Fusetto il test al gruppo che aumenta la natura ora in seconda ruota Trovo punti 16 19 scusate c'è il 19 e 60 quindi Fusetto e Trovo sono le prime atlete che vanno a punti mettendo il passaggio Campana di meno 21 con Bissuola, Cesca, Bagordo Bortolato ora nelle prime posizioni tutti 90 86 Bissuola, Cesca ora Emma trovò in testa al gruppo con Fusetto poi Bissuola, poi Cesca poi Carraro, Bagordo Bortolato Bortolato hanno preso la campana di meno 17 tutti Fusetto Trovo 19 60 ora sono due spinte poi in testa le due atlete vediamo se da dietro di scuola si prende il compito di andare a chiudere il buco sì direi di sì anche perché davanti non si dannano da Bissuola ora all'interno va a sprintare per i punti di meno 16 90 e 60 quindi Bissuola è Trovo al passaggio bella moto della Bissuola ed ecco il gruppo che ritorna alla campana di meno 15 condotto da Elisabetta Carraro va a spintare per i punti l'atleta dello scatenigo 96 e 60 quindi Carraro è Trovo ora Fusetto esce dal gruppetto e va a chiudere il gap con la coppia di testa campana di meno 13 11 12 19 96 Fusetto Carraro Elisabetta Carraro le due atlete dell'azurda bambinaggio corsa ritornano sul terzetto di testa campana Pagordoi Pagordoi in testa al gruppo vediamo se va per il giaccio tutti cilio rinvengono rinvengono 60 e 19 19 abbiamo ancora un terzetto non girare Emma sta lì e diventa puntetto al momento Fusetto con 7 punti in vantaggio poi trovo 6 poi Piscola con 4 punti ed è sprint per i punti di meno 8 con 19 e 60 non fa niente a passaggio con Pagini e campanati meno 7 2 3 3 4 5 6 5 6 8 9 9 10 9 9 96 19 al passaggio precedente quindi Carraro e poi Fusetto con la testa le tre atlete si riazzano rifiatano Sampanati 5 punti di meno 4 60 19 Trovo Fusetto Carraro, poi due staccanti, due slatte, due borsa, e poi ancora di scuola Carraro e Valora, Campana di meno tre Furti di meno due 19.60 Lancia lo sprint Fusetto per la campana E' l'ultimo giro Fusetto 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 Grazie.